buongiorno a tutti il video di oggi è dedicato al numero attualmente ridicola di salute naturale extra che tratta il tema del digiuno e associa al tema del digiuno al concetto della longevità il titolo infatti con un giorno di digiuno vivi fino a cent'anni stiamo stiamo parlando di una pratica che è diventata attuale se non addirittura di moda ma stiamo parlando di una di una consuetudine che ha in realtà delle radici antiche perché in moltissime tradizioni del passato il digiuno era una consuetudine spesso lo si considera associato a delle pratiche religiose indubbiamente ma all'interno della pratica religiosa la finalità del digiuno per incontrare il sacro passava sempre attraverso una purificazione del corpo quindi l'effetto organico del digiuno è quello di purificare disinfiammare l'organismo peraltro ci sono alcuni studi recenti che mettono in luce come i benefici del digiuno si riflettono anche su patologie di notevole importanza anche gravi uno studio americano mette in luce come sette tumori sette forme di tumori sono strettamente collegati al sovrapporto peso e quindi il tema del sovrappeso che abbiamo trattato in molti molti ambiti di cui spesso parliamo che è un indicatore classico di quest'epoca è assolutamente da prendere in considerazione certamente il digiuno non è efficace solo su patologie gravi come quella che ho appena citato ovvero queste sette forme di tumore ma è anche efficacissimo sul buon funzionamento dell'intestino quindi la colite e la stipsi sono sono traggono un grande beneficio da poi ne parleremo da piccoli periodi di giuno la ritenzione idrica e quindi il sovrappeso sono sono traggono vantaggio dalla cosa così come molte forme di intolleranza alimentare di fatto il meccanismo qual è dovete provare a immaginare che il nostro organismo sia come una fabbrica ogni tanto fare dei piccoli momenti di interruzione in cui si mettono a posto le cose è fondamentale che sia il magazzino piuttosto che l'amministrazione un tempo tecnico di chiusura dell'attività in cui si riordina le cose è assolutamente opportuno la stessa cosa avviene all'interno del nostro organismo dove le cellule quando noi mangiamo in continuazione non hanno il tempo tecnico diciamo così di smaltire tutte le scorie e ne rimangono sempre un po in giro e questo è il meccanismo su cui si va a fondare il processo infiammatorio che via via cronicizzandosi e aggravandosi crea il terreno di cultura per molte problematiche ecco quindi l'importanza di riprendere in considerazione quella che è una pratica antica che è assolutamente salutare e che è anche abbastanza indolore perché a volte temiamo che il digiuno o abbiamo idea che il digiuno da fare sia un digiuno prolungato pesante da affrontare via dicendo non è così anche brevi periodi di digiuno possono essere efficaci per brevi intendo digiuni di 12 ore di 16 ore di 24 ore di un weekend senza arrivare ne parleremo all'interno della rivista ma senza arrivare periodi più lunghi e chiaramente se ci sono delle esigenze in queste 12 16 24 ore si possono assumere delle tisane delle erbe dei delle vitamine dei minerali per per compensare quei piccoli squilibri o piccoli disagi che una pratica del genere può creare quindi vi suggerisco di leggere questo numero è molto interessante per prendere confidenza con una pratica che può dare molti risultati un processo di rinnovamento cellulare anche cerebrale nostro nostro cervello ritrova memoria e lucidità grazie al digiuno evidentemente il l'eccesso alimentare o una cattiva alimentazione hanno dei rebound a 360 gradi su tutto l'organismo vari apparati ed è descritto bene all'interno della rivista traggono vantaggio dal digiuno quindi lo stress ossidativo si riduce la massa corporea si riequilibra la massa grassa si riduce a favore della massa gra della massa magra quindi i radicali liberi si si vanno riducendo è tutta un'operazione di salute importante d'altro canto siamo in un epoca in cui non siamo mai stati così sedentari non siamo mai stati così stressati non abbiamo mai mangiato così male mangiato male intendo cibi troppo raffinati cibi preparati industrialmente e quindi il nostro organismo paga un prezzo elevato qual è il farmaco più indicato più potente la sospensione del dell'introiezione di cibo per brevi periodi è una cosa fattibilissima vi suggerisco di leggere questo numero di salute naturale extra che è estremamente ricco e interessante bene grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo video grazie a tutti grazie a tutti